No all'autonomia differenziata, sit-in di Rifondazione Comunista, questa mattina a Pescara. Quali sono, acerbo, i motivi della vostra contrarietà? Noi siamo contrari perché basta e avanza il caos che si è visto durante la pandemia tra Stato e Regioni. Nel 2001 è stata approvata una sicurata modifica della Costituzione che ha ampliato i poteri delle Regioni frantumando l'unità nazionale. L'autonomia differenziata vogliono adesso introdurla nel collegato alla legge di stabilità. Senza dibattito parlamentare sarebbe approvata con il voto di fiducia. Oggi manifestiamo in tutta Italia per dire fermatevi perché già sulla sanità è stato combinato un disastro. Se affidiamo anche tutte le altre materie a partire dalla scuola e lavoro all'ambiente alla competenza delle Regioni non avremo più l'unità nazionale, cioè l'uguaglianza dei diritti tra i cittadini e le cittadine della Repubblica Italiana. E in più col federalismo fiscale si va a favorire notevolmente le Regioni del Nord. Si tratta di una misura assolutamente assurda perché ricordiamo che noi potremmo avere poi la scuola del Veneto dove si studi la storia dei Veneti e avremmo la fine del contratto nazionale di lavoro. Tutto a discapito delle Regioni del centro-sud, ma dico io anche dei lavoratori e delle lavoratrici del Nord Italia. Noi abbiamo bisogno di una Repubblica una e indivisibile, come scritto nella Costituzione.